Buongiorno Come ogni anno si va in vacanza e oggi è il momento della partenza e andrò di nuovo in aereo e quindi ho deciso di riportarvi con me il mio viaggio in aereo adesso dormo in tempi esiste outfit o cioè gli occhiali scusate se ho una voce così ma io bianca, normale a volte non c'è così Comunque siamo arrivati in aeroporto Siamo entrati nell'aeroporto è nulla ho notato una cosa bellissima tutto il McDonald's è mio Ok abbiamo appena fatto il security check e ora siamo nei negozietti è nulla andiamo in un bar a fare colazione visto che non l'abbiamo fatta finito finito ci siamo imbarcati ci siamo imbarcati e ora andremo in aereo questo è l'aereo che bello che bello oddio ma no noi siamo in fondo che bello che bello adoro io guardate che posto vicino alla porta non lasciano un posto VIP alla youtuber io sono delusa ti amo per partire si si proprio tu che stai guardando questo video mi farai compagnia di questo video non so cosa fare oh ma sto ci adoro ho messo le cuffie perché volevo volevo fare un po' di smr ovviamente scherzo io mi sto mi sto annoiando ho provato a fare qualcosa con le mie doti artistiche ma no ho provato a giocare a granny ma mi annoio non so che fare stiamo arrivando stiamo arrivando io ok noi siamo scesi dall'aereo e ora non è finita qua perché ora andremo a prendere pure un pullman per arrivare nel paesino dove dobbiamo andare noi ok siamo nel pullman e nulla quindi ci sono altre due ore di noio quindi ci sono altre due ore di noio ora io ascolterò tipo la musica allora diciamo allora diciamo allora praticamente noi siamo nel pullman come ma dove è? e sono passate tipo un'ora e mezza due ore e tra poco arriviamo noi siamo arrivati a casa e nulla quindi io finisco il video qua spero che vi sia piaciuto lasciate tanti pollici in su iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti e attivate qui la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video ciao tanti abbracci